Ciao a tutti, io sono Matteo Rubboli e questo è il canale di Vanilla Magazine dove parlo di storia, cultura, curiosità e leggende. Oggi parleremo del disinganno, la straordinaria leggerezza di una rete scolpita nel marmo. Quando l'abilità di uno scultore ha la capacità di trasformare un materiale rigido e opaco come il marmo in qualcosa di lieve e quasi inconsistente, può capitare che qualcuno faccia fatica a persuadersi di tanta maestria. Accadda ad esempio a Giuseppe San Martino per il suo Cristo velato. Il sudario che copre Gesù non nasconde il corpo martirizzato, ma pare avere appunto la consistenza di un velo trasparente, morbidamente drappeggiato, che, per dirlo con le parole di Matilde Serau, non copre lo spasimo, ma lo addolcisce. Secondo alcuni, un velo così realistico nella sua leggerezza non poteva essere opera dello scultore, ma piuttosto il frutto di un processo di marmorizzazione di un vero tessuto ottenuto grazie alle conoscenze alchemiche di Raimondo di Sangro, principe di San Severo, committente dell'opera che era da subito destinata al mausoleo della famiglia, la cappella di San Severo. Fu proprio Raimondo, conosciuto a Napoli semplicemente come il principe, che trasformò la cappella in un luogo che doveva testimoniare la grandezza dei San Severo, ma anche i suoi molteplici interessi e la sua appartenenza alla massoneria. E sempre Raimondo commissionò un'altra straordinaria scultura, Il disinganno. In quest'opera, l'artista Francesco Queirolo ha scolpito nel marmo una fitta rete che avviluppa il corpo di un uomo, con una incredibile cura nel dettaglio dei nodi. Il disinganno è una rappresentazione allegorica della possibilità per ogni essere umano di liberarsi dal peccato, simboleggiato dalla rete, grazie all'intelletto, che assume l'aspetto di un putto. Le tentazioni mondane prendono la forma di un globo terrestre, mentre la Bibbia è indicata come lo strumento attraverso il quale ritrovare la luce della virtù. Non a caso è riportato, nel basso rilievo ai piedi dell'uomo, il passo del Vangelo di Gesù che dona la vista al cieco. La statua fu dedicata da Raimondo al padre Antonio, che dopo una vita piuttosto libertina aveva trovato la via della virtù. Non c'è un giudizio nel pensiero del principe, solo la constatazione della fragilità umana che non può conoscere grandi virtù senza il vizio. Il simbolismo dell'opera è fitto di rimandi elementi massonici come il concetto di oscurità e luce, oppure la grande luce rappresentata dal libro aperto. Ma ciò che in realtà lascia stupiti è la cura con la quale è stata scolpita la corda, frutto, pare, di sette anni di lavoro da parte di Queirolo, che non si avvalse dell'aiuto di nessun assistente. Secondo lo storico dell'arte Giuseppe Origlia, contemporaneo dello scultore, il disinganno, e in particolare la sua rete, rappresenta l'ultima prova ardita a cui può la scultura in marmo azzardarsi. Se ti è piaciuto il mio racconto e sei appassionato di storia, cultura e leggende, iscriviti al canale di Vanilla Magazine.